Alcune parole sono considerate vincenti perché riescono a parlare alla mente di una persona in modo positivo. Le parole giuste possono aiutare a sentirci meglio, possono rafforzare le motivazioni e la voglia di migliorare. Inoltre, ci aiutano a superare gli ostacoli psicologici che la vita quotidiana ci mette davanti. Eccoti qualche parola che al tuo posto io farei mia. Io è la parola giusta per ritrovarsi subito al centro della scena. Aiuta a riscoprire l'importanza di quello che si è e che si sente. Una riscoperta della centralità di se stessi che fa aumentare fiducia e autostima. Con un'identità definita, forte e sicura diventa più facile perseguire qualsiasi obiettivo. Realizzabile. Bisogna pensare al proprio obiettivo come a qualcosa di concretamente realizzabile, possibile, vicino, concreto. Ora e adesso. Oggi e non domani. Le parole vincenti ora e adesso ci aiutano a pensare al presente e non perdere il momento giusto per fare qualcosa per se stessi. Piacere. Piacersi. È uno dei motivi principali per cui gli esseri umani fanno qualcosa. Le persone vogliono piacere di più agli altri, migliorare la propria immagine, sedurre. Piacere, amica mia, è un obiettivo, è una parola chiave. Un'altra parola vincente è piacersi, cioè piacere a se stessi, al di là di quello che è il giudizio degli altri. Controllo. È una parola molto positiva quando significa padronanza di se stessi e capacità di scelta. Se si è capace di controllarsi, si può dominare qualsiasi cosa. Infine, l'ultima parola che ti insegno oggi è libertà. È una parola chiave a cui pensare. Liberi di fare il lavoro che ci piace di più, di andare dove vogliamo, di gestire la propria vita come si vuole, di poter indossare abiti più belli, di liberi di sentirsi a proprio agio fra gli altri. Insomma, liberi di fare ciò che riteniamo più opportuni. Queste sono parole vincenti, amica mia. E fale diventare la colonna sonora della tua vita quotidiana. Io sono Giancarlo Fornavi, un abbraccio e mi raccomando, pronuncia quelle parole quotidianamente.